Si chiama Percorsi per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, il seminario organizzato da Union Fidi in partnership con Unindustria Calabria e con l'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Cosenza. L'incontro, grazie anche alla redazione di Luca Erzegobesi, ha avuto la finalità di individuare percorsi che le piccole e medie imprese dovrebbero intraprendere per renderne meno problematico l'accesso al credito bancario e, più in generale, agli strumenti di finanziamento disponibili. Certo, affrontiamo questo problema del rapporto fra piccole e medie imprese e banche dopo otto anni di crisi. Quindi la situazione di solito la si affronta a livello di sistema con una sorta di rassegnazione, nel senso che abbiamo visto una serie di problemi, la crescita delle sofferenze, i problemi di ricapitalizzazione delle banche che sembrano praticamente degli ostacoli insormontabili. Al centro della relazione di oggi c'è invece quella che è la responsabilità di chi in prima linea vive questo problema, quindi quello che possono fare i due soggetti che si incontrano, da un lato l'impresa e dall'altro invece la banca. Abbiamo, penso, raggiunto l'obiettivo che era quello di mettere intorno a un tavolo diciamo quattro realtà che dovrebbero, come dire, relazionarsi sempre di più e contribuire in maniera univoca verso questo obiettivo che, come dire, fa parte del nostro tessuto connettivo che è quello appunto di, come dire, agevolare le imprese nell'accesso al credito e quindi nel rapporto con le banche. Ma certamente il contributo dei professionisti, quindi dei commercialisti diventa un fattore determinante affinché, come dire, le imprese possono essere più decifrabili e quindi meglio finanziabili dal sistema bancario.